La Guardia di Finanza ha sequestrato tre società nella provincia di Catania e di Messina che sarebbero sotto il controllo dei clan. Dalle prime ore di questa mattina oltre 100 finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania stanno eseguendo tra Sicilia e Lombardia un'ordinanza di misura cautelare personale e reale emessa dal GIP su richiesta della procura etnea nei confronti di 24 persone indagate a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico organizzato di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e detenzione di armi. L'operazione è stata denominata Tuppetturu, nel mirino i clan Cintorino di Calatabiano, alleati dei Cappello di Catania e i Brunetto di Giarre, storicamente nell'organigramma della famiglia Santa Paola Ercolano. Complessivamente sono 37 le persone coinvolte nell'inchiesta coordinata dalla procura di Catania con IPM Assunta Musella, Giuseppe Studiale e Fabio Regolo che scaturisce dalle rivelazioni del pentito calatabianese Carmelo Porto. Tra le persone arrestate spicca il nome del giarrese Pippo Andò, Uccinisi, il cui provvedimento è stato notificato in carcere, Andò storicamente organico della frangia locale del suo delizio mafioso Brunetto, articolazione della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, Cosa Nostra Catanese, egemon nel territorio di Giarre, Mascali, Fiume Freddo di Sicilia, Castiglione di Sicilia, era stato arrestato nel 2020 nell'operazione Iungo. Gran parte degli arrestati sono residenti a Giarre, Fiume Freddo, Calatabiano, Graniti, Taormina e Giardini Naxos.